Politiche della casa, l'amministrazione comunale vuole un po' rivedere quello che è stato fatto fino ad oggi, avete diverse idee, diverse iniziative da mettere in campo? Sì, la nostra amministrazione sta facendo rapidamente delle nuove scelte per le politiche della casa, in particolare muovendosi in due direzioni e per il raggiungimento di due altrettanti obiettivi. Quello di migliorare qualitativamente le abitazioni, le cosette case popolari e soprattutto nuove forme di assegnazioni di iter burocratici per l'assegnazione di queste case. Per quanto riguarda il primo punto faremo un ufficio che serva per sfruttare tutte le facilitazioni di legge, parlo anche dell'eco bonus, per migliorare qualitativamente le strutture di queste abitazioni. Per il secondo punto, cioè le metodologie nuove di assegnazione, stiamo coinvolgendo anche i CAF e i patronati per snellire queste procedure. Quindi a breve avremo delle novità. Per quanto riguarda le domande, ci sono delle novità anche sul bando? Dobbiamo appunto emanare il bando e quindi farci un conto preciso che attualmente non posso darle.